Buonasera a Viola Garofalo che è capo politico di potere al popolo. Capo politico forse è l'unico caso perché il capo politico non è il candidato. Perché? Ma perché noi abbiamo ragionato in maniera diversa dagli altri, abbiamo preferito che i candidati fossero espressioni del territorio. Io sono in giro dal 20 novembre a fare le assemblee territoriali in tutta Italia, quindi non avrei potuto curare questo aspetto della campagna elettorale sul territorio a Napoli che è la mia città. Allora, potere al popolo, raccoglie un centinaio di associazioni, alcuni partiti politici, PCI, ancora? È uno nuovo. Rifondazione comunista, anche questa è nuova. E rottura dei trattati e l'Unione Europea. Che significa? Tutti. Via. No, per noi quelli che vincolano soprattutto rispetto alla riduzione della spesa sociale, quindi sanità, scuola. Noi abbiamo una visione che è molto simile a quella di Mélenchon, di France Insoumise. Pensiamo che l'Europa sia una cosa bellissima, ma deve essere solidale. Ma quindi vorreste rimanere nell'Unione Europea? Vogliamo rimanere nell'Unione Europea se l'Europa funziona in maniera solidale e in maniera accogliente. Visto che per il momento l'Europa ci sta impiccando con un abbassamento del costo del lavoro, con un taglio alla spesa sociale che ci viene imposto continuamente, allora vogliamo rompere con questi trattati. Addio alla Nato e recissioni tutti i trattati militari. Sì, perché la Nato ci chiede il 2% del PIL. No, non glielo stiamo dando. No, non glielo stiamo dando. Stiamo dando la metà. Diamo però molti soldi alla spesa militare, sono cifre ingenti. Penso soltanto all'ultimo rifinanziamento della missione in Niger, che è costato 35 milioni di euro. Pensiamo che si possano spendere molto meglio per scuola, sanità. Quindi neutralità. Un paese neutrale in cambiamento di linea dopo la fine della guerra. Un paese pacifista come l'Italia dovrebbe essere, lo prevede la Costituzione. Allora, che cosa non vi va bene? Il Job Act. Bisogna cancellarlo. Intanto l'articolo 18. Bisogna reintrodurlo, bisogna dare tutela ai lavoratori. Se si licenzia qualcuno e non c'è giusta causa, va reintegrato. E poi il Job Act ha precarizzato ulteriormente il mondo del lavoro. Già era stato attaccato molto prima dalle riforme precedenti. E noi pensiamo che invece il lavoro debba essere stabile, sicuro, a tempo indeterminato. Abolizionale dice Fornero sulle pensioni. Assolutamente. Non siete soli, perché una parte della sinistra questo lo chiede. Sì, la differenza è che molti dicono che la vorrebbero abolire, la Fornero. Però poi quando erano al governo, penso a Salvini, che porta avanti questa battaglia, poi non hanno fatto riforme o provvedimenti a favore dei pensionati e dei lavoratori. Dunque ci sembra una contraddizione. Ripristino della progressività del sistema fiscale. Beh, quello è progressivo il sistema fiscale. Arriva da 0 al 48%. Sì, certo. Più tutti gli annessi e i connessi. Però diciamo che noi pensiamo che chi ha i soldi nelle tasche, e ne ha tanti, e in questi anni si è arricchito, e si è arricchito sempre di più sulle spalle della maggioranza delle persone, debba essere tassato di più e debba provvedere in qualche modo a rimettere la ricchezza che ha accumulato grazie al lavoro di tanti, di tanti lavoratori, di tanti precari, rimetterlo a disposizione di tutti. Reddito garantito? Quanti euro al mese? Noi pensiamo che il reddito debba essere un provvedimento per uscire da una soglia di povertà. Quindi pensiamo a 850 euro al mese. Per chi? Per tutti quelli. Per tutti quelli che non raggiungono questa somma, sostanzialmente. Per quanto tempo e a quali condizioni? Noi pensiamo che al centro ci sia il lavoro, è il lavoro che deve essere garantito. Noi non pensiamo che la soluzione sia il reddito. Il reddito è un provvedimento che serve uscire dalla povertà. Quindi bisogna far lavorare le persone, non semplicemente dargli reddito. Il reddito serve a campare, che non è sempre facile scontato di questi tempi. Grazie a Viola Garofalo e buon lavoro. Grazie.